Ci sono giornalisti della stampa internazionale che sono venuti a vedere la Sardegna e credo soprattutto le cose importanti e bellissime della Sardegna. Noi abbiamo già iniziato e continuiamo a farlo con assoluta testardaggine e determinazione. Vogliamo far conoscere la Sardegna al mondo, vogliamo essere conosciuti, vogliamo attrarre interesse e investimenti, quindi queste sono occasioni molto importanti. Tra le cose bellissime della Sardegna, visto che siamo nel territorio di Cabras, il sito di Montibrama, alla luce delle recenti e sorprendenti scoperte, la posizione della Regione sugli scavi qual è? Non è che la Regione deve avere una posizione su tutto, la posizione della Regione è attualmente di piena consapevolezza, più che una posizione è consapevolezza dell'importanza di queste cose. Per avere una prova dell'importanza di Montibrama basta parlare con questi giornalisti stranieri, sono loro i primi a dire, caspita avete cose fantastiche, bisogna farle conoscere. Cercheremo di fare quello che è giusto fare, abbiamo un po' di tempo per pensarci, so che ci sono punti di vista molto diversificati in campo in questo momento. Io credo che una vecchia idea che era quella di avere comunque un luogo di molta visibilità o comunque anche una rete di luoghi, non voglio entrare in questo adesso, poi non evito la domanda ma ci ragioniamo e prenderemo naturalmente per quanto ci compete una decisione, però quello che è certo è che noi dobbiamo raggiungere una visibilità per le cose bellissime che abbiamo, molto maggiore di quella che abbiamo raggiunto oggi. C'è molto potenziale da rendere reale in questo campo.